Bentornati in questo nuovo video di Calcio Mercato Dopo aver parlato nello scorso video del mercato dell'Empoli parliamo del mercato di una delle grandi usine della scorsa stagione ovvero l'Atalanta l'Atalanta ha fatto in realtà molti colpi in modo intelligenti e poi ha tenuto due giocatori che sono tornati al prestito parliamo appunto prima dei due giocatori che sono tornati al prestito e che sono rimasti all'Atalanta uno con un ruolo dal proprio inizio e l'altro un po' come diciamo un giocatore che subentra e che è buono per far girare per il turnover quello che subito ha preso il posto titolare appena arrivato e ha tornato a Bergamo è Caleb Bocoli difensore 2001 che negli ultimi anni gioca un prestito alla Cremonese è un difensore molto molto forte fisicamente ed è diciamo io ne ho sempre parlato bene perché appunto vedendolo mi ha ricordato per certe caratteristiche Coulibaly per altre caratteristiche altri difensori comunque molto forti fisicamente ovvio non ha l'esperienza di un grande difensore perché comunque c'ha vent'anni però è stato insieme a Carnesecchi che è ritornato alla Cremonese ma è sempre proietta dell'Atalanta uno di protagonisti della salita della Cremonese di Pecchia poi l'altro che tratta dal presso è che in Serie A è un po' utilizzato Gasperini per far riposare i suoi titolari sugli esterni e Zortea che appunto entra al prestito poi l'altra grande mossa fatta dall'Atalanta è stato il riscatto di De Miral che appunto dà ancora più sull'Italia difesa appunto per Gamasca poi sempre parlando degli esterni di centrocampo arriva dall'Udinese Brian Soppi difensore classe 2002 molto forte arrivato allo scorso campionato che per Gasper è diventato uno inamovibile e quindi è difficile togliere uno come Brian Soppi per mettere Zortea e poi dall'altro lato barra sulle tre quarti ha preso l'Atalanta sempre a Demola Lukman ex Lipsia giocatore di proprietà Lipsia che arriva appunto al all'Atalanta a titolo definitivo se non è ornero comunque preso un diritto di rischiato in modo tale o comunque arriva ed è prendo uno dei titolari inamovibili adesso è diventato dell'Atalanta sia per l'esperienza che ha perché comunque ha giocato in Premier League con l'Aster la scorsa stagione e sia perché comunque è un signor giocatore un classico 97 in realtà inglese ma visto che Southgate non lo convocava per la Nazione Panale lo scorso anno quando è stato uno dei migliori giocatori della Premier con l'Aster e allora lo ha scelto l'altra ha scelto ha chiesto la cittadina ha cambiato appunto nazionale diventando appunto nigeriano poi che appunto uno dei due genitori era nigeriano e poi gli ultimi due colpi dell'Atalanta sono due colpi secondo me molto intelligenti il primo è Rasmus O'Hoslund attaccante norveggioso del 2003 preso dalla Stumgraz squadra austriaca perché dico mostro intelligente perché l'hanno preso veramente a poco e cioè comunque l'hanno preso e viene per comunque fare il terzo attaccante insieme dietro a Zapata e a Muriel è un attaccante molto forte fisicamente è un giocatore che ci mette anche molta grinta l'unico diciamo difetto è che si deve trovare al campione italiano perché non è il campione italiano non è come quello austriaco dove è molto più semplice che le squadre forti sono 2-3 qui e ci sta comunque un altro riporto di calcio un altro tipo di gioco che esprime uno che pretende tanto dei suoi giocatori quindi quello e l'ultimo colpo in realtà fatto da davanti è uno scambio economico ovvero l'ovato più un conguaglio economico per il classe 99 rivelazione della scorsa serie A con la saleritana Ederson che è un buonissimo centrocampista che anche nella quarta che anche nel quarta giornata serie A si è preso il posto comunque da titolare comunque ormai è entrato nei meccanismi dell'Atalanta anche se in realtà tra le volte è un po' difficile perché trovare la titolarità a Bergamo perché a centrocampo come centrocampista centrale un po' si è già occupato perché Kupemeyer si sta consacrando definitivamente infatti già nella quarta giornata serie A contro Torino ha fatto tre tripletta si deve essere tutti i rigori però comunque ha fatto tre gol e poi appunto Ederson deve guadagnarselo il posto impegnandosi molto 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 e anche soprattutto anche invece Lucman invece Lucman diciamo che scavalcato in generarchie Jeremy Bougat infatti si stava parlando di un Bougat all'estero un Bougat che sa doveva andare alla fine alla fine rimarrà ma sarà il vice ademola Lucman parliamo dei voti se ho dato sette sette e mezzo all'Empli che ha fatto un nome per l'obiettivo che aveva perché comunque quello dell'Empli salvarsi i nomi tutto quanto gli ho dato sette sette e mezzo allora l'Atalanta invece l'Atalanta devo per forza dare cioè l'Atalanta comunque devo dare un 8 o meno per il semplice fatto che comunque sono tutti i giocatori funzionali al gioco di Gasperini perché Demirale pilasso la difesa di Gasperini Ocoli si sta prendendo l'Atalanta Lucman è un giocatore che non può lasciare la panchina perché è fortissimo ha esperienza nonostante lui abbia solo 25 anni poi Brent Soppy c'è investito quindi non puoi non puntarci Lasmus Holland ci devi comunque puntare perché è un investimento Ederson bisogna vedere se ha continuità dopo la bella stagione a Salerno detto questo ci vediamo in un prossimo video di calcio mercato di calcio